Grazie a tutti. Io amo essere presente, amo stare sul territorio, amo stare in mezzo alla gente della mia famiglia paralimpica italiana, però questa volta purtroppo, probabilmente proprio perché la famiglia è cresciuta a dismisura negli ultimi anni, mi è impossibile essere lì tra di voi perché in questo momento nel quale voi ascolterete queste parole io mi trovo a Tarvisio per la cerimonia di apertura dei campionati del mondo di sci paralimpico, per cui il dono dell'ubiquità purtroppo ancora non ce l'ho, però non volevo farvi mancare il mio saluto per una serie di considerazioni. Partendo da quella forse più banale, il mio rapporto che mi lega al Presidente Borsacchini, mi lega attraverso di lui a tutti i componenti del Consiglio federale, mi lega attraverso gli organi della FISDIR a tutti voi riuniti in assemblea. Vedete, i rapporti di amicizia, i rapporti di affetto, i rapporti umani sono quelli che io ho sempre privilegiato in questi lunghi anni di impegno nel movimento paralimpico, dall'allora Federazione Italiana Sport Disabili ad oggi, perché io credo che poi una organizzazione, se non si basa su consolidati rapporti umani, non può andare da nessuna parte. E probabilmente grazie a questi rapporti umani, grazie alla forza delle nostre idee, grazie al fatto di essere riusciti a far squadra, che siamo riusciti a raggiungere risultati straordinari per il nostro movimento, per tutte le federazioni che appartengono al nostro movimento. Chi ha i capelli bianchi, e anch'io ahimè ne comincio a mettere, sa perfettamente da dove veniamo. Sa perfettamente che non più tardi di 15 anni fa io ho preso in mano quella che allora nella sciatteria terminologica, sottolineando l'aggettivazione della disabilità, si chiamava Federazione Italiana Sport Disabili. Oggi siamo forti di un recente riconoscimento di ente pubblico, che non significa, come qualcuno dice, aver conquistato un piccolo pezzetto di potere nell'ambito dell'ordinamento statuale. Significa invece aver, come dire, riconosciuto al nostro movimento quel pezzo di degnità e di legittimazione che ci mancava. Quel pezzo di legittimazione, di dignità che ci consentirà nel futuro di fare in modo che le nostre battaglie, nell'interesse solo ed esclusivo dei nostri atleti, dei nostri ragazzi, che poi debbono essere sempre gli unici protagonisti del nostro palcoscenico, ma anche gli unici per i quali noi comunque dobbiamo lavorare, ci consentirà proprio per loro di ottenere risultati, mi auguro, sempre maggiori. Vedete, oggi l'ente pubblico significa essere entrati nella legge di stabilità, significa avere garanzie di risorse per il nostro movimento, significa in qualche modo essere riusciti a portare a dama e al risultato dieci anni, almeno dal 2003-2004, quando ebbi insieme alla mia squadra quest'idea di portare il movimento a questo risultato, dieci anni di impegno e di lavoro che però si vedono nei fatti, perché lo dicono i vostri numeri, i numeri della vostra federazione in termini di tesserati, di società affiliate, ma lo dicono anche i risultati, non solo i risultati più eclatanti, quelli più belli, visibili, quelli raccontati dai media, dalla carta stampata, ma come dalla televisione, da una televisione che, insomma, da assente totale negli anni trascorsi, quando io ero un giovane atleta, oggi è il secondo network al mondo per ore di copertura delle Paralimpiade di Rio, la RAI è stata seconda solo a Channel 4, ma così fu anche a Londra, e dietro tutto questo c'è stato un grande lavoro di squadra. Allora, non solo i numeri dei grandi risultati della comunicazione, non solo i numeri dei grandi risultati sportivi, Rio, Rio de Janeiro, primo fra tutti, ha segnato la dimostrazione di come quando si lavora con umiltà i risultati arrivano. Per la prima volta siamo tornati nella top ten delle nazioni, dopo 44 anni noni nel medaliere, il che vuol dire che il merito non è mio, non è della Giunta, non è del Consiglio nazionale, ma il merito è di tutti quanti, in primis di tutte le cellule vitali del nostro movimento, che voi rappresentate con le società sportive, i tecnici, i volontari, quelli che quotidianamente alzano la serranda, come io spesso, per usare un'immagine ricordo, tutti i giorni per consentire ai nostri ragazzi di praticare sport. Anche gli altri risultati, dai corpi dello Stato, al gruppo Paralimpio a difesa, al centro paralimpico, che a breve inaugureremo qui a Roma, d'avviamento dello sport paralimpico a Trefortane, è quella che io ho definito la coverciano del mondo paralimpico. Straordinari risultati, e di questi risultati ovviamente ne siete voi buon testimoni, ma soprattutto voi ne siete parte, perché poi se il movimento paralimpico oggi italiano, la grande famiglia dello sport paralimpico italiano è quella che è, è soprattutto merito vostro, è soprattutto merito di tutte le federazioni, e la vostra che rappresenta numericamente quella più importante, ma non solo numericamente, ma anche per la caratteristica dei ragazzi dei quali noi ci preoccupiamo e occupiamo, beh, io credo che di questo noi siamo orgogliosi, ma dovete essere orgogliosi anche voi. Vedete, il fatto che per la prima volta noi si sia potuto annoverare all'interno della squadra paralimpica a Rio due atleti della vostra famiglia, della FISDIR, e penso a Xenia Palazzo e penso a Rud Kutiki, il fatto che il Presidente della Repubblica lo scorso anno abbia citato Nicolo Orlando come esempi di questo paese, in termini di speranza, di positività, il fatto che Maria Bresciani abbia ricevuto durante l'Italian Paralimpic Awards e questa serata della quale abbiamo celebrato la seconda edizione il premio e il riconoscimento del Comitato Italiano Paralimpico, della grande famiglia paralimpica italiana, il fatto che avete degli straordinari atleti, uno fra tutti, Raffaele Di Maggio, che ha stabilito il nuovo record italiano dei cadetti della FIDAL, beh, significa che evidentemente qualcosa sta andando nella giusta direzione. Però, attenzione, noi non dobbiamo, come dire, in qualche modo adagiarci sui risultati. Sarebbe il più grande errore, perché oggi la tentazione sarebbe dietro l'angolo, no? Siamo riconosciuti a ente pubblico, le federazioni crescono, le federazioni possono godere di maggiori risorse economiche, di maggior legittimazione, la nostra azione sul territorio può essere sempre più efficace e pervasiva, però dobbiamo sempre ricordarci che dietro il lavoro quotidiano che noi svolgiamo ci sono tanti, tanti, tantissimi ragazzi e ragazze di sabbi di questo paese che ancora non hanno scoperto la straordinarietà dello sport, sia sotto il profilo della bellezza per poterlo praticare, chi ha avuto la possibilità sa a che cosa mi riferisco, ma soprattutto la straordinarietà dello sport è come strumento di politica di crescita per le loro individualità, per il sostegno alle famiglie, ma soprattutto di crescita culturale del paese. Ecco, io non voglio apparire troppo retorico né ideologizzare esageratamente le politiche sportive, ma quando io dico che la famiglia paralimpica italiana rappresenta un pezzo di welfare di questo paese che tiene insieme la parte agonistica con la parte squisitamente più vicina alla dimensione sociosanitaria, mi riferisco esattamente a questo. E di questo voi ne siete gli artefici, voi ne siete i protagonisti con il lavoro che svolgete quotidianamente. Per cui io non volevo far mancare il mio saluto per questi motivi, per ringraziare io voi di quello che state facendo, ringraziare la federazione attraverso Marco e tutta la sua squadra di quello che è stato fatto, ma soprattutto per ricordare a me stesso, prima che a voi, a coloro che saranno eletti, a coloro che continueranno da domani e dopo domani il loro quotidiano lavoro, che non dobbiamo fermarci. Che il nostro impegno e la nostra responsabilità nei confronti del paese è sempre molto più importante, perché oggi che siamo stati, come dire, riconosciuti per la nostra dignità e legittimazione, veniamo anche misurati per quello che faremo. Io sono convinto che quello che faremo sarà sempre più importante rispetto a quello che abbiamo già fatto, per cui da questo punto di vista io nel salutarvi vi ringrazio, ma nel salutarvi mi do appuntamento insieme a voi, insieme a quelli che saranno gli organi eletti per le nuove sfide del futuro. Siccome ne abbiamo ancora tanto, perché poi le idee ovviamente al sottoscritto, ma come a ciascuno di voi poi vengono lavorando, e sono 16 anni che abbiamo dimostrato di essere un esempio di buona prassi nel paese, altrimenti non saremmo arrivati dove siamo arrivati, beh, questo però lo dobbiamo fare tutti insieme. E soprattutto ricordatevi una cosa, al di là della identificazione, tra virgolette, domestica di ciascuna federazione, tutti quanti dal primo all'ultimo anello delle organizzazioni appartengono alla grande famiglia dello sport paralimpico italiano, del Comitato Italiano Paralimpico, che è quello che oggi attraverso umilmente la figura della mia persona vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie.